Vai Marta, se no birrellino eh! Non di pancia, non di pancia! Per me è perfetto Marta. Grazie Maria. Sì però mi insegna la tecnica. Io sono portiere, se devo calciare ti insegno come si calcia. Come si spinge? Il teacher sei, il teacher sei. Scendi. Ah ok. Ah ok adesso. Capito? Facile! Quasi però eh! Mi richiamo è fantastico eh! Però come Fabi dice, se io vedo il tuo culo, Tiro un calcio in culo! No! Calcio in culo! Marta abbiamo capito che se rimaniamo in dieci... ... 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